Il meteo è presentato da Ristorante da Kiregas Con bontà e risparmio siamo aperti tutto l'anno Un saluto e ben ritrovati all'appuntamento Con il metodo di Oltrefano Come potete vedere l'edizione speciale di oggi È in diretta dalla città di Cagli Zona interessata, zona dell'entroterra Interessata da forti nevicati Come tutti i rilievi collinari e anche la costa Per i prossimi giorni ci attendo ancora una settimana Di stampo nettamente invernale Infatti nella giornata di lunedì Avremo cielo generalmente nuvoloso su tutte le zone Con deboli nevicati che interesseranno Sia la fascia costiera sia le aree interne Nel corso della serata L'arrivo di un ulteriore nucleo di aria fredda Determinerà un aumento dei fenomeni All'iniziale dai settori collinari Per la giornata di martedì Avremo cielo coperto su tutte le zone Con diffuse precipitazioni nervose Anche di moderate intensità Associate anche a vento forte Che potrà determinare il tormento di neve Sui rilievi Nel corso della serata Tuttavia ci attendiamo un graduale miglioramento Con una letta attenuazione dei fenomeni Specie sulle zone costire I venti come detto saranno moderati e forti Settentrionali E il mare è generalmente molto mosso Per la giornata di mercoledì Avremo condizioni di cielo Inizialmente nuvoloso Con residui e deboli nevicati Specie sui settori colbinari e appenninici Nel corso della giornata Si faranno spazio graduale schiarite Ed un miglioramento del tempo Che proseguirà anche per la giornata di giovedì Gli ultimi aggiornamenti dei modelli Ci danno però per il prossimo fine settimana L'arrivo di nuovi nuclei di aria fredda Che potrebbero intensificare E ridare nuovamente delle precipitazioni nevose Vi ringrazio per l'attenzione Arrivederci al prossimo aggiornamento